Ancora casi di compravendita di droga tra minorenni, arrestato dalla polizia di Stato in un pusher di 16 anni, diventato già punto di riferimento tra i giovanissimi. La preoccupante escalation di violenza nel centro storico di Modica, discussa ieri in prefettura, si interverrà con maggiori controlli, più telecamere e anche una ronda privata. Dopo mesi di abbandono e silenzio, adesso qualcosa inizia a muoversi per la riapertura della piscina comunale di Modica. Ultimato il bando, l'amministrazione cerca un nuovo gestore. Il mare e la barca vela come terapia a favore dei diversamente abili e il progetto Pirati Sbandati ormai pronto a mollare gli ormeggi con a bordo anche l'associazione Piccoli Fratelli Onlus. Salve a tutti e ben trovati con l'informazione di TG74. Apriamo con la cronaca con l'ennesimo caso di droga tra giovanissimi e anche minorenni. Un ragazzino di appena 16 anni sorpreso dalla polizia non solo a spacciare marijuana ed hashish in strada ma anche essere diventato un vero e proprio punto di riferimento tra i baby assuntori. Sentite. A soli 16 anni già in strada tra i vicoli del centro storico di Ragusa superiore a vendere droga ad altri giovanissimi. In tasca oltre a marijuana e hashish anche un bilancino di precisione per spacciare direttamente sul posto come nulla fosse. Un fenomeno, quello della compravendita di droghe anche pesanti che sempre più sembra diffondersi soprattutto tra i giovanissimi, molti dei quali oltrepassano il limite diventando dei veri e propri pusher tra le strade iblee. Il giovane è stato sorpreso nel centro cittadino in possesso di circa 30 grammi di droga. Il risultato è stato raggiunto in seguito alla predisposizione di un'attività specifica finalizzata alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti soprattutto tra i giovanissimi. La presenza sospetta del sedicenne tra i vicoli del centro storico superiore ha spinto gli agenti a procedere al suo controllo. Lo stesso alla vista dei poliziotti ha cercato immediatamente di disfarsi di un involucro di carta stagnola che prontamente è stato però recuperato e conteneva diversi grammi di marijuana già divisa in dosi. Accompagnato negli uffici della questura di Ragusa lo stesso è stato sottoposto a perquisizione personale che ha permesso il rinvenimento di altra marijuana oltre a un bilancino elettronico utilizzato per la vendita al dettaglio della droga. La perquisizione effettuata nella casa del giovane alla presenza anche dei genitori ha infine permesso il sequestro di un altro quantitativo di hashish. Il tutto ha fatto quindi sospettare come nonostante la sua giovane età il ragazzo fosse diventato il pusher di riferimento per tanti suoi coetanei. All'esito di quanto è emerso il minore è stato pertanto arrestato con l'accusa di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti e su disposizione del PM di turno della procura dei minori accompagnato nel centro di prima accoglienza per i minori di Catania. In serie di successiva udienza gli è stato convalidato l'arresto ai domiciliari. La polizia di Stato informa infine che rimane costantemente alta l'attenzione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio rivolta al mondo giovanile e in particolare al fenomeno del consumo e spaccio di sostanze stupefacenti. Atti di vandalismo si stanno registrando in questi giorni sia a Ragusa che a Marina di Ragusa e danni di alcuni cittadini che si ritrovano con le proprie autovetture danneggiate da ignoti a segnalarlo il consigliere comunale della Lega Maria Marfa che parla di particolari episodi accaduti in pieno giorno in via Paolo Vetri e nei pressi di via Amalfi nella frazione Rivierasca. Può essere che al momento ci sia una banda di malintenzionati che sta cercando di perpetrare furti tra le auto in sosta. L'occasione è utile, conclude la Marfa, per cercare di verificare sino in fondo il pieno utilizzo delle telecamere di videosorveglianza nelle zone più critiche di Ragusa. A Modica invece si tenta di porre un freno agli episodi di violenza che si registrano soprattutto durante le fine settimana nel centro storico. Ieri si rienisce riunito in prefettura Ragusa il Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza. Presente anche il sindaco di Modica e il comandante della polizia locale. Esattamente dieci giorni fa l'ennesima rissa in centro a Modica. Lo scorso 26 gennaio Piazza Matteotti ancora una volta teatro di violenti fatti di cronaca. Giovani che sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol per futili motivi non si sono fatti scrupoli nel dare vita a episodi di violenza ingiustificata davanti anche a diversi passanti. Quella notte tra sabato e domenica solo un'altra rissa che portò anche un ferito con una prognosi di 20 giorni. Qualcuno vide anche mazze di legno utilizzate come armi bianche. Ancora qualche settimana prima sempre in zona altri episodi di violenza. Avvenimenti che nelle ultime settimane hanno fatto registrare una pericolosa impennata soprattutto in corrispondenza dei fine settimana e che hanno scosso l'opinione pubblica e preoccupato cittadini e commercianti. Per questo, così come lo stesso sindaco Ignazio Abate aveva annunciato, incalzato anche da centinaia di lamentele pubblicate pure sui social, proprio ieri ha incontrato il prefetto Filippina Cocuzza durante il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Per l'ente di Palazzo San Domenico erano presenti, oltre il primo cittadino, anche il comandante della polizia locale, Rosario Cannizzaro, molteplici le proposte avanzate da due rappresentanti modicani per mettere un freno agli episodi pochi edificanti che non appartengono certo al tessuto sociale storico della città di Modica. Voglio ringraziare il prefetto per aver accolto la nostra richiesta, commento il primo cittadino, scaturita anche dalle richieste dei cittadini stanchi di assistere a continue risse da salunne per le strade del nostro centro storico. Al tavolo abbiamo portato anche diverse richieste, a cominciare da un incremento deciso degli impianti di videosorveglianza con particolare riguardo nelle zone limitrofe alla Domus Santipetri e Castello dei Conti. Abbiamo quindi chiesto una maggiore presenza notturna delle forze dell'ordine nei fini settimana con pattugliamenti congiunti interforze tra carabinieri, polizia, guardie di finanza e polizia locale. Tra le proposte avanzate anche quella di affidarci a una vigilanza privata notturna che lavorando quando è più intensa la movida possa garantire maggiore sicurezza ai cittadini. E' sempre a Modica qualcosa inizia finalmente a muoversi per la riapertura della piscina comunale chiusa ormai da mesi. L'amministrazione ha proprio oggi comunicato di aver ultimato il bando utile a individuare il futuro gestore. Sentite. Sono serviti circa sette mesi ma alla fine qualcosa inizia a muoversi in merito alla piscina comunale chiusa dallo scorso luglio e su cui almeno fino ad oggi nulla si è saputo. Sul caso certamente un disonore per lo sport modicano e un gravissimo disagio per molte persone costrette ad allenarsi in altri comuni era più volte intervenuto anche il consigliere comunale Mommo Carpentieri chiedendo l'UMI proprio all'amministrazione. L'ennesimo tempio dello sport chiuso, abbandonato e vittima di ulteriore deterioramento. Adesso, come accennato, ecco arrivare le prime notizie positive proprio dall'amministrazione comunale che ha comunicato di aver completato il bando per la nuova gestione della piscina comunale di Modica e che è adesso pronto per essere pubblicato. È stato infatti completato il progetto elaborato dagli uffici tecnici del Comune per la profonda opera di ristrutturazione cui deve essere sottoposta la struttura comunale chiusa a causa di gravissime carenze strutturali che l'hanno di fatto resa inagibile. Il nuovo bando include in sé anche i lavori di ristrutturazione che saranno a carico della società che se ne aggiudicherà la gestione per i prossimi anni e che andrà a scontare dal canone di affitto l'ammontare degli interventi. Abbiamo optato per questa scelta, commenta il sindaco, per velocizzare il più possibile le operazioni e venire incontro alle esigenze dell'utenza e degli stessi lavoratori della piscina comunale. La società che se la giudicherà potrà così cominciare da subito gli interventi e in tempi brevi potrà riaprire le porte della struttura. Quando è stata decretata la sua chiusura dalle relazioni avute anche dai vigili del fuoco sono emersi gravissimi problemi strutturali che si erano acuiti negli ultimi anni di utilizzo. Sarebbe stato oltremodo pericoloso continuare a tenerla aperta oltre che fuori da ogni legge ignorare queste lacune. Il progetto di ristrutturazione, proprio a causa della complessità della situazione, ha richiesto diversi mesi di elaborazione. Patrizia Mandarai è il nuovo vice sindaco del comune di Santa Croce e Camerina. Il sindaco Giovanni Barone ha firmato ieri il decreto di nomina. La Mandarai che era subentrata a Frasca nel settembre del 2018 ne aveva assorbito anche le deleghe, sicurezza, immigrazione e sviluppo economico. La nomina della Mandarai è arrivata qualche giorno dopo l'arrevoca di Giovanni Giavatto che rimane comunque in giunta insieme ad Adolfo Robusti. I due assieme al presidente del Consiglio, Piero Mandarai e altri due, si sono virtualmente sospesi dalla maggioranza dopo la firma di Gravina su un documento dell'opposizione. E ora uno sguardo alla politica regionale perché è stata recentemente approvata all'Ars una mozione finalizzata all'abbattimento dei costi dei biglietti aerei. Inoltre si è discusso anche di continuità territoriale, della possibilità di estenderla anche agli aeroporti di Palermo e Catania. Approvata all'Ars una mozione che impegna il governo regionale ad avviare interlocuzioni per i passeggeri che viaggiano dagli aeroporti siciliani verso i principali scali nazionali e viceversa al fine di combattere il fenomeno del cosiddetto caro voli. Mozione presentata dal Partito Democratico e approvata con un'altra analoga presentata dal Movimento 5 Stelle. Obiettivo intervenire con misure efficaci per ridurre il costo dei biglietti aerei da e per la Sicilia, divenuto ormai insostenibile per larga parte dei cittadini. Questo è anche quanto ha affermato il capogruppo del PD Giuseppe Lupo intervenuto in aula per illustrare tale mozione e che poi ha anche ribadito il proprio parere di ampliare la continuità territoriale anche agli aeroporti di Catania e Palermo e non solo Trapani e Comiso così come sottoscritto nel bando di gara recentemente firmato dal Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli. Ma tale mozione contro il caro voli in linea definitiva impegna il Governo regionale ad attivare discussioni con lo Stato per il riconoscimento di tariffe agevolate per i lavoratori, studenti fuori sede e residenti che si spostano per cure mediche e per i passeggeri che viaggiano dagli aeroporti di Catania e Palermo verso Roma e Milano e viceversa. Soddisfatto, certamente, anche il Movimento 5 Stelle che ribadisce essere isolani non vuol dire essere isolati per questo anche l'Assemblea regionale siciliana ha compreso l'importanza della mobilità sancita dall'articolo 16 della nostra Costituzione a dichiararlo è il deputato regionale del Movimento 5 Stelle all'Arse, Giuseppe Marano firmataria della mozione approvata in queste ore al Palazzo dei Normanni sempre per il Movimento 5 Stelle anche il deputato Ibleo Stefani Accampo che ribadisce come sia l'insularità contro il caro voli che la continuità territoriale possono viaggiare su binari paralleli per questo è stato di fondamentale importanza discutere anche in merito all'inserimento degli aeroporti di Catania e Palermo tra quelli che potranno usufruire del contributo per ridurre il costo dei biglietti aerei ai siciliani. E da Ragusa i consiglieri comunali del Partito Democratico Mario Chiavole e Mario D'Asta hanno presentato oggi un'interrogazione chiedendo risposta scritto al sindaco e all'assessore alla cultura per conoscere la situazione dei fondi che erano stati impegnati nel tempo per il ripristino dell'ex cinema marino destinato a diventare il teatro della Concordia. Ingenti somme erano state impegnate assieme a un finanziamento dell'allora governo nazionale i consiglieri del PD chiedono ora di conoscere qual era il totale delle somme a disposizione quale eventualmente cadute in prescrizioni quali invece spese per altri progetti infine due consiglieri chiedono quali le intenzioni dell'amministrazione circa il loro utilizzo per uno specifico progetto. E ora un progetto certamente singolare quello denominato Pirati Sbandati è organizzato dalla Lega Navale Italiana sezione di Pozzallo scopriamone di più con questo servizio. Il mare è la vela per lo sport e l'assistenza all'handicap è l'obiettivo del progetto denominato Pirati Sbandati promosso dalla Lega Navale Italiana sezione di Pozzallo queste le immagini dello spot che ha fatto il Giro d'Italia e raccolto fondi tramite campagna crowdfunding provenienti da ben 71 sostenitori tra privati e aziende del territorio. Si tratta dell'unico progetto selezionato in Sicilia su scala nazionale dalla piattaforma Ogni Sport Oltre pienamente raggiunto e superato il traguardo dei 20.000 euro adesso il progetto può spiegare le vele e partire con a bordo loro i protagonisti ovvero le persone diversamente abili alle quali sarà offerta un'esperienza speciale finalizzata alla pratica dello sport della vela d'altura verranno organizzate attività sportive sia di livello teorico sia di livello pratico su barche a vela d'altura a cui potranno prendere parte tutte le organizzazioni che si occupano di disabilità perché lo sport sia davvero un'opportunità per tutti tutte le attività si svolgeranno in gruppo e ciò costituisce di per sé un fattore di esercizio alla socializzazione e alla condivisione la vela sportiva è un'opportunità per far emergere e sviluppare potenzialità ignote o nascoste dei diversamente abili l'uso dell'imbarcazione le nozioni tecniche e le pratiche operative della navigazione a vela non richiedono solo agilità e forza ma anche particolari sensibilità che con opportuni accorgimenti tecnici possono essere sviluppate in soggetti portatori di handicap sensoriali o motori o di disagi psicosociali stare al timone comunicazioni in radio meteorologia determinazione della rotta infine la lega navale di Pozzallo specifica anche che i 20.000 euro raccolti serviranno a coprire i costi per le spese di personale medico e consulenze mediche altre spese saranno quelle per i corsi di vela tenuti dagli istruttori esperti velisti della lega navale italiana e per la formazione di ulteriori istruttori nonché quelle per l'uso delle imbarcazioni d'altura e le relative barche d'appoggio ai fini dello svolgimento delle attività nella massima sicurezza l'associazione piccoli fratelli Onlus di Modica è stata la prima ad aderire al progetto Pirati Sbandati e prima di chiudere ancora una notizia verrà inaugurata domani pomeriggio alle 18 alla sala borsa della camera di commercio di Ragusa la mostra intitolata la città aurea urbanistica e architettura a Ragusa negli anni 30 curata e progettata da Carlo Giunte e promossa dalla sovrintendenza di Ragusa presente anche il presidente della regione Nello Musumeci la mostra racconta la forte trasformazione della città di Ragusa nel periodo a cavallo tra le due grandi guerre quando furono progettate e realizzate importanti opere pubbliche con l'obiettivo di migliorare la fruizione del tessuto urbano e contestualmente di far comprendere alla cittadinanza l'impegno del governo nazionale di quell'epoca direttamente sui territori la città aurea si gioverà anche di un interessante contributo multimediale con interviste di approfondimento al sovrintendente di Ragusa Giorgio Battaglia all'archeologo Saverio Scerra allo storico Giorgio Flaccavento e all'architetto Titta Tumino bene questo è tutto non ci sono aggiornamenti quindi l'appuntamento è con le prossime edizioni grazie arrivederci grazie a tutti